Vicenza, carissima Anna Maria, sono onoratissimo che il Presidente della Repubblica ha messo il sigillo sulla iniziativa e sul ricordo a tergo della fotografia di Marcello Torri, perché ci sono altre istituzioni che non solo non hanno messo il timbro, altre istituzioni che ce l'hanno tolta, altre istituzioni che ce l'hanno tolta, a Marcello Torri è stata intestata una piazza dal comune di Pagani, a Marcello Torri gli hanno tolta una piazza intestata il comune di Pagani, allora qualche volta sarà stato pure che 30 anni fa Napolitano che pure abbiamo contrastato io e te quel giorno sulla discarica perché era il Presidente della Repubblica che stava firmando il decreto per vale della masseria, ma certamente sono onorato che il sigillo del Presidente della Repubblica sia su queste manifestazioni e a questo ricordo perché poi il sigillo del Presidente della Repubblica e il sigillo della Repubblica italiana, al di là, nonostante il rispetto assoluto che ho per Napolitano e per quello che rappresenta. Quindi perdonami però credo che dovesse in qualche modo essere puntualizzato da Vincenzo che è un nostro concittadino che è Presidente di un'associazione, carissima Anna Maria che ha fatto della solidarietà il motore di tutte le iniziative e l'emblema di tutta la propria attività. La leggo io e Vincenzo lo consegnerà. In memoria di Marcello Torre, sindaco di Pagani, ucciso dalla Camorra l'11-12-1980. Testimone di legalità, testimone di vita. Sicignano di Gli Alburni, 30-11-2013, l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta. Alla dottoressa Antonietta Lettieri, sindaca di Colliano, testimone di legalità, testimone di vita. Sicignano degli Alburni, 30-11-2013, l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Allora, comune di Sicignano degli Alburni, ad Antonio Pernicola, cittadino onorario del nostro comune, testimone di legalità, testimone di vita. Sicignano degli Alburni, 30-11-2013, l'administrazione comunale. Grazie. Applausi. Sono un paio di amici da Teglia a Gerardo, Gerardo Grinto. Ci lasciamo una fotografia con noi, sono un paio di amici. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti